o quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri o dio salmo 139 verso 17 sarà capitato a tutti di trovarsi in un momento particolarmente difficile in quel momento la sensazione della solitudine è più profonda che mai pensi che nessuno sia interessato abbastanza a te da avere un pensiero affettuoso una parola di incoraggiamento di cui senti veramente il bisogno e poi arriva una telefonata un messaggio all'improvviso che ti rincuora ti porta la gioia ti ridà il sorriso ti riempie di forza proprio in quel momento perché qualcuno ha pensato a te quanto più la certezza che dio abbia a cuore la nostra vita che lì dio ogni potente il creatore pensi a noi e abbia pensieri per noi si occupi sempre della nostra crescita spirituale e ci provveda ogni cosa dovrebbe riempire di gioia infinita il cuore dio è sempre al corrente delle nostre necessità delle nostre difficoltà delle nostre sofferenze la sua presenza non ci farà mai sentire soli e abbandonati nonostante la nostra mente non comprenderà mai appieno quanto siano profondi e completi i suoi pensieri è bello poter esclamare o quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri o di